Ok Erbolti, bagnoli Da oltre la sua tre istante non è capace a tirare Udrineto, 6-5-5, Roma De la città di Chiesa Oh, c'è la toccata di Jokic, di Godis Che vola in mezzo a mille maglie russi E infatti entra Gabbini, entra anche Ringgando Gabbani, ringgando la fuga Un po' di muovar che i tutti Un po' di muovar che i tutti è uno di due ancora in doppia si fa tutto il primo che John Tepancio ne fa sattare il suo uomo da tre punti l'Antonio è un airball e poi la palla 3 secondi con i centesimi di vista la partita è il suo uomo quindi per i venti è un po' per Roma e qui la palla per la per 12 secondi per prendere l'azione Rocco Leniukic la vita che ha fatto andare lui Rocco Uchic provare ad andare in penetrazione non fa Uchic la Rocco che vola attenzione alla possibilità Dziękuję il schnello non cambia niente da bere 28 57 500 4 fino al tempo 13 4 13 14 15 15 19